Gentili telespettatori, buona giornata. Interviene anche Giorgia Meloni sul caso dei conti correnti spiati suoi, della sua famiglia, dell'ex compagno Gian Bruno, della sorella Arianna Meloni, di altri politici, Ignazio Larussa, Guido Crosetto, i cofondatori di Fratelli d'Italia, poi ci sono alti ufficiali della Guardia di Finanza, dei carabinieri, ci sono dentro magistrati, sportivi, imprenditori, oltre 7 mila accessi negli ultimi due anni, come sempre accade non si sa il perché e non si sa chi è il mandante e sicuramente questo non si saprà mai. Arriva l'ironia della Premier sull'inchiesta per gli accessi abusivi ai conti bancari della Procura di Bari, Speranzon di Fratelli d'Italia dice clima da stasi, la Meloni dice dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano, lo scrive su Facebook la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sull'inchiesta della Procura della Repubblica di Bari relativa a un ex dipendente di banca intesa per accessi abusivi a banche dati. E come vi dicevo diverse le reazioni del mondo politico, ovviamente il centro-destra fa quadrato intorno alla Premier, un'altra inchiesta in cui al centro ci sarebbero accessi illegali ai conti correnti di numerosi esponenti politici, soprattutto, indovinate un po', politici di centro-destra. E così la Procura della Repubblica di Bari apre le indagini su un ex dipendente di banca intesa San Paolo, accusato di aver effettuato oltre 6.000 accessi non autorizzati ai conti correnti. E così Mauro Dattis di Forza Italia dice in Italia quanto pare spiare sta diventando uno sport nazionale, è evidente quindi che non sia più procrastinabile intervenire con l'inasprimento delle pene con regole più restrittive, ci lavoreremo con serietà, è una questione intollerabile, commenta il Vice Presidente della Commissione Nazionale Antimafia di Forza Italia, Mauro Dattis. Raffaele Speranzon, Vice Capogruppo Vicario dei Senatori di Fratelli d'Italia, dice che il caso dei dossieraggi assume contorni sempre più inquietanti. Stamattina, dice il Quotidiano domani, riferisce di migliaia di accessi abusivi ai conti correnti di diversi esponenti politici e non, tra cui il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente del Senato Ignazio Larussa, diversi ministri e dirigenti di partito di Fratelli d'Italia. Attendiamo che la magistratura attendere prego, faccia il proprio corso per accertare se si tratta di un funzionario infedele o di uno scandalo di proporzioni ampie. Intanto però non possiamo che rilevare un clima da stasi, i servizi segreti della DDR, che certo appesantisce il clima sociale politico. Da parte mia la solidarietà a tutte le persone coinvolte. E poi arrivano anche altri commenti del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che dice sconvolge, ma purtroppo non stupisce, la nuova inchiesta portata alla luce dal Quotidiano Domani, dalla quale emerge che i conti correnti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dei ministri, magistrati, imprenditori, venivano spiati da un dipendente di banca infedele. Si parla di oltre 7.000 operazioni non autorizzate e contro la privacy che interessano i ministri Daniela Santanchè, il ministro della difesa Guido Crosetto, il Presidente del Senato Ignazio Larussa, il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto e tanti altri. L'auspicio, dice il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, è che la magistratura faccia presto chiarezza sull'accaduto per stabilire se ci troviamo di fronte a uno scandalo di portata maggiore, che si aggiunge all'inchiesta di Perugia sul dossieraggio ancora aperta e tutta da verificare. Sul caso dossieraggio di Perugia, guarda un po', non si trovano i mandanti, non ci sono i mandanti, quindi alla fine ci rimette solo l'ultima ruota del carro, cioè l'incaricato dello spionaggio e fanno passare, come ogni volta, che erano praticamente dei mezzi fuori di testa che passavano il tempo a guardare i conti correnti delle persone o a scaricare dati su trasferimenti bancari delle persone. Quindi ci vogliono far passare l'idea che in Italia ci siano persone che fanno così dei dossieraggi a caso, così per passare il tempo. E quindi sul caso dell'inchiesta di Perugia sul dossieraggio, mandanti, chi lo sa? Mandanti non ci sono. Le motivazioni? Non esistono. Il caso di Bitonto, i mandanti? Non ci sono. E perché lo facevano? Non si sa. Quando non si sanno queste cose e non si riesce ad andare avanti per capire chi c'è dietro, significa che chi c'è dietro è molto ma molto potente. Questo ne abbiamo parlato proprio ieri, il Deep State, lo Stato profondo, lo Stato nello Stato nello Stato. Chi all'interno delle istituzioni o nel settore dell'economia controlla e cerca di condizionare le scelte politiche. Il Deep State, lo Stato profondo, lo Stato dentro lo Stato. Sono quelle strutture nascoste che adoperano per condizionare e comandare sulla politica. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie. Ricordatevi che poi c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove trovate almeno un video al giorno, poi questi video sono condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Luca Vincitore, dove lì potete poi condividere tutti i video che volete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.